Cari amici, benvenuti ad Arco Baleni, la nuova trasmissione di Arco Consumatori dedicata ai problemi di noi cittadini nella nostra veste di consumatori ed utenti. Al microfono Franco Venni, segretario regionale dell'Associazione che volta a volta vi presenterà i numerosi ospiti esperti nei vari argomenti che ovviamente andremo a trattare. Sono, come ben noto, argomenti che interessano fortemente i consumatori sia nei momenti di acquisto sia nei momenti di stipula di un contratto di mutuo piuttosto che una bolletta eccetera eccetera. Ne abbiamo per tutti i gusti e quindi dobbiamo rispondere in qualche modo a tutte le esigenze e le domande che ci vengono poste. A questo proposito durante la trasmissione noi tratteremo diversi argomenti, oggi tratteremo in particolare alcuni argomenti che riguardano noi e il supermercato. Ovviamente vi verrà, sentendo la trasmissione, da porvi qualche domanda. Bene, noi vi aspettiamo, le domande ce le potete trasferire per via e-mail sia a noi sia a Radio Speranza. Per Radio Speranza l'indirizzo di posta elettronica è radiosperanza-dioscesipescara.it Oggi siamo particolarmente lieti di continuare un percorso di guida e di attenzione alla grande distribuzione con Leo Ruggeri, che è l'Avvocato che cura per Arco questo argomento. Allora, intanto benvenuto alla trasmissione. Grazie, grazie mille. Allora, abbiamo già trattato due o tre questioni come il luogo fresco e asciutto, la conservazione in frigo soprattutto delle uova, dell'acqua eccetera, le confezioni da conservare al riparo della luce. Oggi cercheremo di trattare, abbiamo visto anche qualcosa sul pesce, forse non tutto, ma insomma qualcosina l'abbiamo vista. Oggi parliamo invece della parte più di trasparenza delle informazioni che dà il supermercato, nei cosiddetti slim. In termine gergale si chiamano slim quei cartellini che trovate sugli scaffali, in cui c'è scritto tante cose di cui soltanto alcune vi interessano e sono utili. È utile sapere il prezzo, è utile sapere di che marca è ovviamente il riferimento del prezzo, il costo della confezione è il costo del prezzo al chilo e al litro. Guardate che per confrontare 400 grammi di caffè con 375 di un'altra marca, sempre di caffè, voi se guardate il prezzo soltanto della confezione correte il rischio di imbrogliarvi. Invece è previsto per legge e ci debba stare il cosiddetto prezzo unitario. Per cui guardate il prezzo al chilo dei due prodotti e vi rendete conto qual è la marca che in quel momento è più conveniente. Naturalmente questo non è tanto ben visto dalla grande distribuzione che cerca di occultare in tutti i modi questo benedetto prezzo unitario. Perché? Perché la grande distribuzione vende spazi, cioè affitta gli scaffali alle marche e naturalmente le marche pagano a seconda della loro evidenza sugli scaffali. Allora le caramelline le trovate al piano di sotto perché ci stanno più vicino all'occhio dei bambini. La parte che interessa vendere di più la trovate all'altezza dell'occhio e così via. Se voi invece guardate il prezzo unitario è chiaro che le scelte le fate in modo diverso rispetto a quello che vi induce la produzione e il supermercato. Ecco perché il prezzo unitario a volte è così nascosto. Diciamo che è una pratica tipica quella di minimizzare il prezzo unitario. Perché ricordiamo che sugli slim come sulle etichette ci sono dei dati, delle informazioni che devono essere fornite obbligatoriamente. Il prezzo stranamente non rientra tra quelle indicazioni di cui la legge e la normativa anche europea prevede l'obbligatorietà dell'indicazione. Poi sullo slim è naturale che ci sia perché altrimenti la persona non può rendersi conto. Però a quel punto, come dicevi tu, si preferisce dare un maggiore risalto al prezzo della confezione che però a differenza di peso tra due confezioni che vendono relativa allo stesso tipo di prodotto può indurre in inganno il consumatore perché ti fa pensare di stare ad acquistare un prodotto più conveniente mentre ne è un quantitativo minore e quindi vai invece a rimetterci. Il prezzo unitario sarebbe l'unica indicazione. Dovrebbe avere lo stesso risalto indicato sullo stesso rilievo con lo stesso carattere tipografico. Anche qui per analogia potremmo dire che si dovrebbe dare lo stesso risalto al prezzo unitario così come al prezzo finale del prodotto. Sì, perché la legge mi pare che dica che deve essere messo in modo ben visibile. Sì, ci deve essere chiarezza, trasparenza e non indennevolezza. E in tutti e due i casi, cioè usa le stesse parole la legge, sia per il prezzo unitario che per il prezzo finale. Deve essere chiaro e ben visibile, questo dice la legge. E poi rappresentiamo una cosa fondamentale, il prezzo finale, cioè il prezzo del prodotto che una persona o un consumatore vada ad acquistare, deve essere comunque il prezzo completo quindi senza ulteriori ricarichi. E questo è un piccolo suggerimento che si dà perché poi spesso capita, mi sono trovato proprio di recente anche io al supermercato, in una situazione in cui una persona ha preso un prodotto e è arrivato alla cassa, aveva un prezzo diverso, ha dovuto scegliere, dico dovuto scegliere di non acquistarlo perché era un prezzo quasi doppio rispetto a quello che aveva visto sullo scaffale. Ricordiamo a tutti quanti che il prezzo visto sullo scaffale è il prezzo che alla cassa deve essere praticato, se c'è stato un errore, un problema loro, io posso pretendere, avendo operato una scelta, che quel prezzo mi venga praticato. Avvocato, ma se questo non viene usato perché notoriamente i prezzi, se voi guardate ci sono i cosiddetti caratteri stanghetta, praticamente sono dei caratteri assolutamente quasi senza spessore, cioè sono tutti lunghi ma stretti stretti, tanto che non si vedono quasi per niente, oppure sono mescolati i prezzi unitari ad altre cose, ad altri dati. Allora, la prima domanda è, si può mescolare così facilmente in una cosa che riguarda il consumatore tanti dati senza essere accusati di farlo apposta? Assolutamente no, mi ripeto, il principio basilare è quello della chiarezza e trasparenza, l'etichetta, lo slim, qualunque indicazione che va fornita al consumatore, che comunque l'esercente, la grande distribuzione o il negoziante in generale fornisce al consumatore deve essere chiaro, non deve essere tale da trarre l'inganno, da farlo dubitare della scelta, cioè io devo essere posto in grado quando vado ad acquistare un prodotto di fare una scelta coerente, cosciente, non devo pensare che possa esserci la fregatura. Io ho visto delle cose addirittura in corpo 4, corpo tipografico, soprattutto il prezzo unitario per cercare di assolvere il problema della legge ma nello stesso tempo ingannare in qualche modo il consumatore non facendoli, soprattutto immaginate se è possibile leggere cose scritte piccolissime nell'ultimo scaffale in basso oppure quando lo slim, cioè l'etichetta che viene messa sullo scaffale è convessa o concava, cioè i margini alto e basso sono più stretti di quelli compatibili con la lunghezza dell'etichetta. Cioè quando la vedete bombata o la vedete concava, spesso quando sta all'ultimo scaffale o allo scaffale più basso non è leggibile perché rimane sotto la curvatura. Allora, tutti piccoli trucchetti, domanda, ma ci sono sanzioni perché quando queste cose avvengono in questo modo così plateale e ormai diffuso? Sanzioni ci sarebbero, ti uso il condizionale perché sempre ci sono le multe, ci sono in alcuni casi... Chi le dovrebbe combinare? Qualunque pubblico ufficiale, qui parliamo proprio in linea generale, vale un po' diciamo in linea indicativa, la stessa norma che vale per il divieto del fumo, quindi qualunque pubblico ufficiale, però ancora di più ci deve essere la possibilità di rivolgersi direttamente a un responsabile che all'interno della struttura corregga immediatamente l'errore perché è anche logico che non si debba aspettare l'intervento di un pubblico ufficiale o di una persona che dall'esterno viene a correggere. Certo, però quando per esempio il sottoscritto fa le contestazioni, gli viene sempre risposto che il problema è la casa madre, per cui i vari dicono, noi ci arrivano le etichette già predisposte e non possiamo farci niente. L'etichetta sul prodotto magari è una questione, però lo slim... No, l'etichetta sullo slim... Quello è differente, io direi differente, ci si adegua, l'attivamento parte magari dalla casa madre... Allora, è la casa madre che va imputata in una causa eventuale? Il responsabile è il prodotto del consumatore, è sempre il venditore diretto, perché non si può caricare il consumatore, quindi chi va ad operare un acquisto, di un'attività ulteriore, cioè quello di doversi rivolgere alla casa madre, al produttore e così via. La mia interfaccia è sempre comunque il venditore. Poi sono, mettiamola sempre così, problemi suoi, anche perché lui potrebbe comunque attivarsi. A questo punto, se lo slim che gli arriva è più piccolo, o meglio, è più grande come dimensione rispetto al posizionamento in cui dovrebbe stare, per cui non rimane chiaro, si adegua lui. Certo. Perché lui deve sapere, lo sa sicuramente, come lo sanno tutti i venditori, che la normativa lo obbliga a tenere un comportamento di chiarezza e soprattutto di non ingannevolezza, perché ripeto, se io mi metto a una distanza tale da poter leggere un prezzo e questo prezzo non mi è chiaro, i dati di riferimento non mi sono chiari, così come mi sono chiari poi sull'etichetta altri dati, come possono essere quelli di scadenza, la produzione, i metodi di conservazione, io non devo sobbarcarmi, io acquirente, io compratore di un'ulteriore indagine per andare a verificare che. Bene, allora, consideriamolo una promessa, da qui in avanti il sottoscritto manderà come associazione lettere e soprattutto degli avvisi molto concreti alla grande distribuzione perché queste cose non avvengano, in difetto ovviamente dobbiamo metterle in mora, qual è lo strumento di controllo più adatto per metterle in mora su queste cose? La finanza? Qualunque pubblico ufficiale, in alcuni casi, sì, possiamo ricordare la guada di finanza, tutti i vigili urbani, gli annonari, magari quelli che hanno una competenza specifica e che quindi hanno un occhio particolare anche sul requisito specifico che l'etichetta o lo slim o la presentazione del prodotto deve avere, perché ad esempio, ne abbiamo già parlato l'altra volta, se uno va al banco del servito, trova una serie di indicazioni che devono essere chiare. È vero che il banco del servito è un po' un mondo a parte, perché il servito, quindi il prodotto lavorato sul posto dal venditore non deve, il venditore in questo caso non deve ottemperare tutte quelle indicazioni che invece fanno carico al produttore. Alla scadenza del prodotto, sì, quando io ho le insalate russe oppure queste roba sott'olio che può essere pesce o qualsiasi altra cosa, la cui data di scadenza sta nei bussolotti grandi che loro riversano poi nelle vaschette davanti al pubblico, quelle, le date di scadenza non si vedono mai e difficilmente si conoscono anche gli ingredienti, quindi è una questione di mancata trasparenza sulla quale effettivamente il banco servito è un problema. Fate caso, mi sembra, l'abbiamo detto anche l'altra volta, al fatto che se i cartellini dei prezzi e con le indicazioni del prodotto stanno dietro, stanno nello scaffale che sta dietro il banconista, spessissimo non si riesce a capire se il salame è toscano, salame di qualsiasi altro tipo, per cui variano i prezzi e non si sa che tipo di prodotto ti rifilano, soprattutto quando vengono abbandonati sul tavolo e non rimessi nell'apposita cosa. Bene, credo che abbiamo esaurito un po' il nostro tempo massimo, rimandiamo ai nostri ascoltatori alla prossima puntata per le altre problematiche che vanno accuratamente esaminate. Vi ringrazio e alla prossima!